C'è vigile urbano Cairo. Questo è il reparto delle cancelliere, c'è cancellieri Anna Maria, Rosanna e la cancelliera Merkel. Loro sono qui diciamo le tre fisse che ogni tanto commentano loro le cose. Questa è più bella di quella? No è uguale, è quella, sì sì è quella. Qui basta che faccio questo e mi parte una cosa, vedi? C'è la prima pagina! Quando viene un ospite, arriva uno e diceva, guarda chi c'è? Ciao! Finalmente è arrivato... Chi? Finalmente è arrivato... Chi? Finalmente è arrivato... Chi? Il più migliore del mondo! Ciao!